Il papà di se ne amora niente, vita di sé, ma in mente grandi te, un giorno in più che se ne va, e non un giorno in eternità. Grazie Riccardo, allora, ci siamo, ci siamo, c'è Francesco Renga, con noi collegato, e per lui la nona volta, la terza notte di una vera con le quali vinci il mio primo festival di voci nuove a Cascina di Bugli. Io mi starei ad ascoltare per ore, vero mai. Festa dell'unità, iscrizione 500 lire. Senti io, io ho fallato con i bambini, 500 lire. Però vinci a una medaglia d'oro che sono andato vicino a venderla tante volte e giuro ce l'ho fatta, ce l'ho con me quella medaglia. Allora, quando davano i premi, li davano bene, nel senso che la caravella d'oro, era d'oro, io l'oppusa mi sono fatta a braccialetto. Ha fatto bene, hai fatto bene. Ancora no. La caravella sede, bordere eccetera, invece il bestialetto dopo è che è una bella difficile per tutti. Molto molto complicato, adesso sono seria nel dire questa cosa, però bisogna veramente cercare di pensare, di andare avanti con forza, con coraggio e con speranza. dunque Marco Sì, ronorato